Con Pollini va da Tanfoglio che attacca subito Weilunsao, si prende un tiro complicato ma realizzato con Tanfoglio. Imposta l'azione offensiva, gioca il pick and roll con Malagnini, alza il flotter, pick and roll con Malagnini, Tanfoglio vuole andare fino in fondo e appoggia il lay-up che però viene respinto dai ferri del Ticotidiano, poi si prende un bellissimo flotter, Andrea. Adesso la palla ce l'ha Nicola Tanfoglio invece che attacca pick and roll e subisce il fallo dal numero due Bottelli. Con Tanfoglio che attacca il pick and roll, palla scaricata per la tripla, aperta e realizzata da Tonnelli. Torna la palla nelle mani di Tanfoglio, scarico per Tanfoglio, torna la palla a Tanfoglio e Nicola che prende la bomba. Malagnini va in and off da Tanfoglio che scarica per Porto, si prende una tripla, aperta, batte a Porto, veramente in alto. Intanto dall'altra parte Tanfoglio si gioca il pick and roll con Becke che poppa e si prende la tripla realizzata per il più dieci di Brescia. Tanfoglio si gioca il pick and roll sempre con Malagnini, si prende una tripla, una grandissima rimessa, dieci al tiro. Intanto Tanfoglio va andare fino in fondo, rischia di perdere, la riprende, cinque al tiro, due, si prende una tripla, clamorosa di Tanfoglio. Tanfoglio riceve, vuole giocare un pick and roll con Malagnini, va da Tanfoglio, si prende un'altra tripla. Tanfoglio, adesso si gioca un pick and roll con Malagnini, Tanfoglio, dieci al tiro, Pollini da tre punti, importante! Realizzato da... Non riceve adesso un pick and roll, 11 al tiro, isolamento per lui, va da Tanfoglio che si prende una tripla, realizzata!